Oggi tornando dal mio studio ho guardato questo quadro che è piuttosto nuovo ma soprattutto è anche nuovo qui dove l'ho messo e ho fatto questa riflessione di quanto è vero che qualcosa in particolare è successo con il quadro prende importanza o comunque acquista una bellezza diversa a seconda del contesto dove lo mettiamo in questo caso è semplicemente parete però riprende il colore che è all'interno del quadro stesso questo direte è normalissimo, è un concetto di colori, di come stanno bene, di armonia in realtà la mia considerazione è andata ancora oltre di quanto è importante anche per una persona sentirsi nell'ambiente giusto un ambiente che gli dà risalto, gli dà importanza, gli restituisce armonia e bellezza rispetto a toglierla e quindi l'invito di oggi è sceglietevi il contesto giusto